Assessore si è aperta questa voragine la notte scorsa, è stata sfiorata anche una tragedia, fortunatamente non ci sono stati problemi e feriti, questa è la cosa più importante al di là di tutto. Ho saputo stamattina che nello scavo c'è caduta dentro una macchina, fortunatamente le persone che stavano dentro la macchina nella macchina si sono avuti questi problemi, stamattina alle 5 sono arrivato, abbiamo cercato prima di coordinare il traffico veicolare, quello scolastico in modo particolare che doveva arrivare da tutta la provincia di Chieti e da quella di Pescara, abbiamo deviato il flusso dei pullman, il problema è serio, stiamo verificando sia le strutture ipogee sottoterra, perché qua già c'è stato un intervento di consolidamento sotto l'ingegno civile, abbiamo visto quelle che sono le infrastrutture superficiali, fogna, acqua, quelle che sono i problemi, adesso vorremmo chiudere per riaprire al traffico leggero in giornata e poi tenere sotto controllo per due giorni la struttura e riaprire. Dico che per questo tratto di strada io ho richiesto espressamente due anni fa e l'anno scorso ripetutamente alla regione Abruzzo i residui di un finanziamento per Chieti da consolidare che ammonta da circa un milione di euro. Spero che adesso di fronte a quello che sta succedendo la regione si sbrighi e accelere e ci dia questo finanziamento.